Ragazzi vi abbiamo fatto assaporare già il prossimo capodanno praticamente Ah sì, hai visto? Allora io devo fare complimenti a voi, a te Roberta, a te Federico perché devo dire veramente, io per lavoro sono in giro a presentare personaggi come voi ma devo dire, faccio complimenti a voi ma soprattutto faccio complimenti a questo pubblico Ma adesso vi dico perché a questo pubblico che ha scelto voi come pegnamini perché veramente, veramente vi meritate tutto il successo che state avendo e sicuramente tutto il successo che avrete Grazie Perché comunque rispetto ad altri che ho visto lavorare voi avete una cosa eccezionale ovvero vi divertite qua sul bar Ah beh, quello è sicuro Ed è la cosa più bella che ci possa essere Io ho guardato un attimo i vostri appuntamenti, sono entrato sui vostri siti, ho visto tutte le date da facendo Lo so che ieri eravate in Sicilia, giusto? O l'altro ieri? Eh no, due giorni fa siamo stati a Berolta Io ieri ero in piscina, guarda Prossimi appuntamenti Io ho pulito casa, ti interessa? Hai pulito casa? Sì, la 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 la, stira, stira, stira Non lo sanno Allora sentite, io adesso, voi avete regalato a questo pubblico, ai vostri fan Questa serie di canzoni, questa cosa molto molto bella Come vedete è apparso quasi magicamente un tavolino Ci sono questi due scabelli che avete già ampiamente usato Però adesso io volevo lasciare, se siete d'accordo con me, lo spazio loro Perché adesso cominciamo, allora, cominciamo a prepararci Possiamo allargare un attimo il passaggio lì? Allora abbiamo un corridoio Allora fra il tempo se c'è un po' di sashimi al salmone Noi siamo amanti del salmone Un saluto al giapponese Viva il giapponese Se c'è un po' di sashimi Parto con le ricche, io me lo aspettavo da voi Vedendo il tavolino, adesso sta a vedere che lo fanno Allora, prende l'uomo Senza retegno Questo è il pennarello leghista Allora, a posto, ok Allora io vi do il pennarello, c'è uno per qua Altrimenti oggi abbiamo anche un altro nero, come volete Ok, a posto Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare dal mio sosia Se praticamente c'è qualche chilo in più per la pentilatura è la stessa Avvicinatevi pure adesso uno per volta Potete salire sul palco E poi si scende da quella parte Vediamo quanti, se riusciamo ad accontentare tutti i nostri amici Mettetevi un po' di musica di sottofondo Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Allora, ragazzi, non lasciatevi spaventare tutti i nostri amici Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Allora, comunque, c'è ancora lui. Prego. Tu sei il quello più fortunato di tutti, lo sai perché? Perché sei l'ultimo. Capite? Sei l'ultimo. Quindi dopo di te si chiude tutto. Meglio ultimi che secondi. Meglio ultimi che secondi. Sei primo la basso. Oh, bene, bene. Allora, raccogliamoci di quanti qui attorno perché adesso ci salutiamo. Noi dobbiamo anche ringraziare te. Eh, ciao! Ma figurati! Abbiamo fatto tutti i ringraziamenti. No, no, ma quello ci mancherebbe altro. Anzi, sarebbe bello ritrovarsi. Sicuramente da qualche altra parte ci rincontreremo sicuramente perché è sempre una gioia. Quando ci sono loro io non faccio niente. No, non è vero. No, no. State tranquilli che quando mi tocca lavorare è dura, invece è così, mi guardo lo spettacolo ed è favoloso. Oh, è... E' per quello che faccio tutti i complimenti. Allora, ci siamo? L'usamo termine. Allora, abbiamo finito. Abbiamo finito le cartoline. Abbiamo finito coloro che vogliono ricevere e... C'è la signora? C'è la sciura? Venga, sciura. Cioè, se aspettava ancora un po' finiva che prendeva settimana prossima. Comunque noi aspettavamo ancora il sashimi di salmone ma non ce l'hanno portato, eh. Eh, perché gliele hai chiesto in giapponese. Sono andati a pescare il salmone lì sul fiume. Tra un po' arriva. Adesso andiamo a cena tutti al giapponese. Oh, beh. Ah, ma siete organizzatissimi. Allora, prepariamoci qua. Sì, andiamo in Campanacci. Da dove arrivate? Dalla Campania. Dalla Campania, sì. Da Piacenza. Da Piacenza, Campania. Da Bologna, Piacenza, sono... Da Genova. E chi ha pagato il viaggio? Paga Federico, da Roma, per Federico. Organizzo io i pullman, sai. Ai transfert. Sì, sì. Eh, lo so, lo so. Signora, vuole l'autografo. Come? Rabucchi Letizia. Letizia si chiama, signora. Letizia. Ok, allora, prepariamoci, mettimi la musica sottofondo. Noi ringraziamo ancora, eh. Allora, ragazzi, loro vi stanno ringraziando, ma penso il massimo ringraziamento lo possiate dare voi. Comunque cosa, con un applauso, con un saluto, con un arrivederci alla prossima data, prossimo appuntamento con Federico e Roberta. Dove, dove sarete? Dove ci sono? Io sarò, dunque, il 27 a Molfetta, un po' lontano. Un po' lontano, però qualcuno può venirti a trovare. Io non ricordo. Non lo ricordo, però arriverai. Ove, ancora? Che picco! Non mi chiedete le date, non mi chiedete le date, perché... Comunque vorrei fare un ringraziamento al mio nome e anche al nome di mio, al centro commerciale del Torbiere. Anche mio, mi chiedete lavorano, dai. Al centro commerciale del Torbiere. Grazie, grazie. Grazie, ragazzi. Ciao a presto. Ciao a tutti. Ciao a tutti. Ciao a tutti.